E' stata inaugurata a San Cataldo l'arte dei presepi, prima mostra dei presepi artigianali, allestita tra la Chiesa Madre e l'Oratorio del Santissimo Sacramento, conosciuto in dialetto come uratò. Un'iniziativa dell'Associazione Culturale Il Pettirosso, abbracciata con entusiasmo dall'arciprete parroco della Chiesa Madre San Cataldese, Don Alessandro Giambra, e alla quale hanno aderito diverse associazioni presepisti del territorio e non solo. L'inaugurazione è stata curata anche dall'Associazione Quarta Parete, che ha realizzato domenica 11 dicembre una rievocazione storica dal titolo Il Sì di Maria. Una trentina circa i presepi presenti, diversi materiali utilizzati, dai tappi delle bottiglie di plastica, al cartone e alla terracotta. La natività viene rappresentata in vari contesti, da un quadro in una piccola cappella, quello più tradizionale, con la grotta, la stella cometa e i tipici mestieri di un tempo, o ancora Gesù Bambino tenuto da due mani che fuoriescono dal mare, tra reti e una barchetta alle spalle. L'iniziativa nasce grazie alla mia passione per il presepe. Ho voluto regalare alla città di San Cataldo questo momento di aggregazione coinvolgendo diverse associazioni in questa mostra. La mostra è realizzata da diverse associazioni e soprattutto da diversi ragazzi speciali. Nonché abbiamo pure una casa di riposo che ha voluto donare il proprio presepe realizzato interamente da tutti gli anziani ospiti. All'interno della mostra abbiamo, oltre alle associazioni, diversi appassionati, ma abbiamo anche il piacere di ospitare il presepe realizzato dall'associazione Amico Medico, che rappresenta la chiesa del convento di com'era nelle origini. Quindi dopo tanti anni sarà messa anche la chiesa in mostra proprio per far apprezzare le nostre tradizioni e la nostra arte presepiale. La mostra è aperta da giorno 11 fino al 6 di gennaio. Stiamo vedendo di fare diverse anche delle attività e soprattutto la mostra sarà sempre aperta a tutti. Vogliamo anche ricevere persone che vengono da fuori proprio per far ammirare la nostra arte. All'interno della mostra troveranno sempre qualcuno che andrà a spiegare tutti i presepi nelle loro forme, nelle loro particolarità.